wow ragazzi sono rilanz bentornati in questo nuovo video sul mio canale oggi ragazzi sono qui in un video abbastanza serio in quanto vorrei parlarvi di un argomento comunque in specifico la una serie che sto portando avanti sul mio canale perché parlo di video serio innanzitutto questa serie è la tente a quei due una serie che ho cominciato da ormai sei episodi quindi sono sei settimane se non sbaglio poco più di un mese e due settimane e prima di cominciarla vi ho fatto vi ho chiesto appunto se volevate vederlo sul canale la risposta all'inizio è stata positiva infatti avevo chiesto il numero di like ora non ricordo quanti e quel video li ha ottenuti quindi ero felice anche di registrarla e portarla sul canale ma dopo sei episodi tipo una sfumatura tra virgolette vedo che non vi sta piacendo più una sfumatura nel senso che sta calando sempre più cos'è che sta calando sempre più stanno calando sempre più le visualizzazioni comunque anche mi piace ovviamente di conseguenza forse poi c'è anche colpa mia anzi 80 per cento è colpa mia in quanto il mio il mio canale quindi la base dei miei iscritti è improntata più sul pack opening oggi che è lunedì dovevo uscire appunto la tente coi due ma sto facendo questo video per dirvi che al 99 per cento non continuerò più questa serie per i motivi da me citati prima quindi pochi mi piace l'ultimo abbiamo raggiunto neanche 50 mi piace sul video e quindi non non è buono assolutamente perché ho quasi mille cioè ho già mille e cinquecenti iscritti e passa e 40 mi piace mi sembrano un po troppo pochi e quindi ho preso questa decisione ma appunto ho in mente un'altra serie un'altra serie che sarà molto più complessa molto più difficile da realizzare riguardo me e spero che vi piacerà prima ho detto al 99 per cento perché 99 c'è ancora quell'1 per cento se sotto questo video mi scrivete di continuarla lunedì prossimo appunto vi farò il settimo episodio altrimenti cambierò serie comunque andrò su quella che ho in mente quindi ragazzi volevo fare questo brevissimo video per informarvi di ciò come al solito ragazzi i miei social trovate nella descrizione se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi se entro metà settimana non vedo abbastanza commenti cominciando già a preparare la prossima serie qui da realizzate tutto bella raga